Siamo con il secondo capo motorista Gabriele Fabiano, presidente dell'Associazione Marinai d'Italia, gruppo Cagnasone Venaria Reale. Quest'oggi si è festeggiata la vostra Santa Patrona. La nostra Santa Patrona, Santa Barbara, che tuttora ci protegge e ci aiuta nella nostra vita, come faceva quando eravamo imbarcati e ancora di più adesso che non siamo più sulle navi ma sulla terraferma. La nostra Santa Patrona ci continua ad aiutare, noi crediamo in essa e ad essa chiediamo sempre aiuto. E grazie al suo aiuto piano piano stiamo facendo rivivere il nostro gruppo, la nostra sede, con nuove adesioni, con il recupero di tante persone che per tanti motivi non frequentavano più, il tutto per essere presenti sul territorio di Venaria e altre zone e poter testimoniare il nostro attaccamento agli ideali della Marina Militare. All'interno della vostra sede il Museo del Mare, secondo solamente a quello della Spezia. La nostra sala storica, dove ci sono tanti reperti, è stata curata per tanti anni dai soci fondatori, a cominciare dal clavalier Claudio Genta e da tutti quelli che mi hanno preceduti. Io ho soltanto raccolto la loro identità, ci sono tantissimi reperti interessantissimi che vale veramente la pena di visitare e visionare, cosa che stiamo facendo e faremo sempre di più quando riceveremo, come già è accaduto, visite di studentesche e chiunque voglia vedere i nostri reperti. Terminiamo la festa con il motto dei marinai? Una volta marinaio, marinaio per sempre. E se mi consentite, vorrei dire anche il motto della mia nave, la più bella del mondo. Una piccola corvetta che adesso non c'è più, ma il cui motto le citava così Alarum verbera nosce, conoscerai il battito delle nostre ali. Buona Santa Barbara. Schieramento attenti! Marinai scoprirsi! Alza la bandiera! Alza la bandiera! Porsa! Rientra! Marinai scoprirsi! Piposo! Rientra! A presto! Grazie a tutti.